bello e buono benvenuti nella mia casa l'antica macelleria del manzo cotanto una vera e propria istituzione infatto di bovini di qualità oggi vi parlerò di cinque succulente varietà di manzo conosciute e desiderate in tutto il mondo che scorazzano libere in un territorio chiamato triple frontier partiamo dalla manzetta di annan un bel manzo inglese una bestia famosa per la sua lealtà quasi regale nel suo habitat naturale ci ricavi certe costate che guarda con questo invece un bel pezzo di bisonte garrettiano un celebre manzo americano combattivo muscoloso tragottante ho tanta roba nulla da dire usa usa se invece cercate una carne dal gusto più maturo più complesso un bel filetto di benangus è quello che fa per voi ma che mascella che portamento pare quasi un attore di hollywood il manzo di isaac invece una qualità di bovino originario del guatemala una bella bestia esotica baciata dal sole questo si marina nella birra che le è un piacere e poi c'è lui il più desiderato il più invidiato di tutti il vitellone pascale un manzo cileno che ti basta guardarlo per perdere fiato vi voglio bene io al vitellone pascale ragazze oggi mi sento ispirato e voglio lasciarvi con una massima nessun manzo è davvero irraggiungibile quando sai come cucinarlo mi sento ispirato